Io più che un giudizio seguo una mia scuola, che poi è quella di mio padre e di mia madre, che mi hanno spiegato amare e rispettare le istituzioni innanzitutto. Quindi, come voi avrete notato, sono due anni che io non dico una parola contro il sindaco De Magistris, non perché non avrei da dirle, ma perché ritengo che chi è stata istituzione, io sono stata fino a due anni fa sindaco di Napoli, deve rispettare chi per volontà dei cittadini fa la stessa opera. Il che non toglie, detto fra parentesi, che però le parole dette da Epifani mi sembrino più che giuste.